L'International Inner Week Club di Sulmona ha aderito al progetto adotta una classe promosso dal comune di Pratola Pelligna dedicato all'acquisto di arredi per il nuovo polo scolastico antisismico. Il club cittadino nel corso dell'anno sociale ha promosso iniziative mirate, la raccolta fondi, la devolvere al progetto e nei giorni scorsi, nell'Ovidius Hotel di Sulmona, si è svolta la cerimonia di consegna del service a cui è partecipato il sindaco di Pratola Pelligna e presidente della provincia dell'Aquila Antonio De Crescentis e il presidente del comitato, genitore, istituto comprensivo tedeschi di Pratola, Gianni Benedittis. Il service è stato inserito nella campagna internazionale promossa dall'Inner Will volta a migliorare le condizioni di vita dei bambini in ogni parte del mondo. È una grande soddisfazione, spiega il presidente Inner Will Sulmona, Chiara Buccini. Concludere il mio secondo mantato consecutivo alla guida del club con la consegna di un service così importante che ha centrato in pieno la campagna promossa dall'Inner Will su scala internazionale. Garantire arredi nuovi, sicuri e antisismici, rappresenta per noi un valido modo per garantire condizioni di vita migliori alle nuove generazioni. Con convinzione la presidente, il direttivo e l'intero club hanno sostenuto il progetto Adotto una classe, promosso dal comune di Pratola Pelligna. A riguardo, conclude Buccini, mi congratulo con il sindaco De Crescentis e con il presidente del Comitato Genitori che hanno dimostrato lungimiranza e sensibilità. Colgo l'occasione per ringraziare tutti coloro che hanno contribuito affinché il club raggiungesse questo importante obiettivo e in particolare la camerata musicale sulmonese che ha dimostrato grande vicinanza all'Inner Will Club di Sulmona.